Davana Figliatiello è esperta di bellezza e di cura del corpo. Siamo già troppo in ritardo per prepararci a quest'estate? Ci sono sempre le ritardatari in questo periodo, però non è mai troppo tardi perché adesso abbiamo dei trattamenti che con poche sedute danno dei risultati eccellenti. Sono dei trattamenti formulati con delle fitoessenze e degli ingredienti anche molto naturali che agiscono sia sul tono del tessuto che sulla vera e propria cellulite che comunque tutti abbiamo, ahimè purtroppo. Tutti nel senso anche le magrissime? Anche le magrissime, poi c'è qualche eccezione ma sono proprio delle eccezioni molto molto rare e in quel caso c'è bisogno sempre di riprendere un po' il tono del tessuto anche quando non c'è cellulite. Ecco ma per una forma perfetta, quali dovrebbero essere le misure da integrare tra alimentazione e trattamento? Ci facciamo qualche esempio. Beh, sicuramente una buona alimentazione, un'alimentazione cosiddetta corretta che comunque non è detto che debba essere sempre con dei grossi limiti ma ci sono dei piccoli accorgimenti da fare nella nostra alimentazione quotidiana tipo il bere di più perché possiamo anche mantenere un'alimentazione che non sia però esagerata integrando molta più acqua nel nostro organismo per cui c'è più scambio intercellulare per cui migliora tantissimo la cute, la pelle in realtà. Ecco e anche chi non può andare in palestra per esempio, che cosa dovrebbe fare tutti i giorni? Ma io ritengo che siano due cose molto diverse perché la palestra va e ci vuole sempre, secondo me è alla base però è diverso perché la palestra andiamo a tonificare il muscolo per cui andiamo ad avere uno stile di vita sano che ci aiuta sicuramente ma i nostri trattamenti, i trattamenti estetici vanno ad agire sul tessuto per cui anche una donna palestrata può avere un pessimo tessuto e mi è capitato di vedere molte donne prese dalla palestra che hanno un tessuto asfittico e un tessuto con mancanza totale di tono. Qualche trattamento innovativo? Io so che lei si occupa anche di trattamenti che vengono dall'estero dalla Spagna, dagli Stati Uniti che sono all'avanguardia in questo settore ci fa qualche esempio di trattamenti innovativi? Un trattamento che io amo tantissimo è il Bioslimming arriva dalla Francia, ha avuto successo a Miami in America ed è ritornato qui in Italia è un trattamento meraviglioso perché in sole, se sedute, riusciamo a vedere un risultato veramente eclatante e io consiglio sempre, noi esperti del settore, consigliamo sempre di misurare le circonferenze dell'addome e delle cosce prima e dopo il trattamento perché effettivamente oltre che visivamente si ha una riduzione in centimetri. Allora è un trattamento manuale che ha come ingredienti proprio delle sinergie di fitoessenze e principi attivi ricavati sia dalle piante che dalle alghe però nel caso in cui abbiamo persone che hanno problemi con la tiroide sono anche consigliate per loro perché sono trattati in maniera diversa e poi c'è un'alta percentuale anche di caffeina in questi prodotti con delle determinate manualità specifiche e con un tempo di posa che intorno ai 40 minuti si ottiene un risultato molto molto bello. Ecco, lei è anche docente a un corso di Gesco per giovani aspiranti estetiste quali sono i principi base della manualità che insegna loro? Insegno innanzitutto delle manualità che vanno a dare un risultato anche con solo l'olio da massaggio perché sono le manualità che sono importanti nel massaggio soprattutto quello corpo quindi acquisite queste manualità si hanno veramente con costanza chiaramente con due o tre trattamenti a settimana si ha la possibilità di dare risultati anche con un olio di mandorle tranquillamente se si fanno dei cicli insomma costanti e questi ragazzi devo dire la verità stanno già acquisendo queste manualità e una in particolare mi ha mandato le foto di una zia che ha trattato del prima e dopo dove c'è una notevole differenza con un solo trattamento, con un solo massaggio. Quindi dal biosneaming che è all'avanguardia al massaggio che è un po' più tradizionale però i principi dell'estetica si evolvono ma restano anche sempre gli stessi? Sì sicuramente quando si è acquisito una tecnica di massaggio consolidata che già da sola dà dei risultati questi trattamenti ci aiutano ad avere di più però io consiglio sempre alle mie clienti di comunque frequentare un centro estetico almeno una volta a settimana in maniera abitudinale poi chiaramente chi non può può affacciarsi a questi cicli, minicicli di trattamenti che comunque danno un bellissimo risultato.